Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Giulia, io Sofia, pure essendo sorelle abbiamo un carattere molto diverso, super disordinata Io sono super ordinata, quindi oggi andremo a fare la morning routine disordinata e ordinata Voi siete più disordinati o più ordinati, quindi siete più disordinati come me o più ordinati come Sofia Quindi iniziamo La sveglia, ordinata Ciao ragazzi, buongiorno Finalmente una giornata ordinata La sveglia è disordinata Nooo Vabbè la lascio suonare Anche questa mattina L'ha vinta lei Aiuto Sono pronta per iniziare la mattina come tutte le altre Via coperte Via coperte Rifare il letto, ordinati Ora devo fare il letto Voilà, fatto Sono pronta per iniziare una nuova giornata In realtà Oggi Ma Il senso di fare il letto Qual è? Se poi la sera La mattina ti svegli La mattina ti svegli La mattina ti svegli Questa la giornata e poi la sera ci ritorni Che senso di fare il letto Vabbè Io in tutti i casi Non lo faccio Posso restare qui quando voglio Posso rientrare Non di togliere le coperte Perfetto Posso iniziare la mia giornata I compiti Ordinata È il momento di fare i compiti Fare i compiti disordinata Ora devo fare i compiti Perfetto Giusto 50 scarabocchi Niente di che Gli appunti Ordinata Fatto 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 Guardate che bello questo foglio Senza neanche uno scarabocchio Qua 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 Ragazzi scusate Quello prima era gli appunti Ordinata Quindi ora Appunti Disordinata Ok Guarda Si è fatto tutto Aspetta Ma qua Cosa c'è scritto Però Non capisco cosa c'è scritto Vabbè Vabbè Ho fatto tutto Mica non capisco quello che ho scritto Ma no Capito tutto C'è scritto chiaramente Alzarsi Camminare 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 C'è scritto tutto Si capisce perfettamente Chi non capisce quello che c'è scritto Vabbè Ok ragazzi Questa era la nostra morning routine Disordinata 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 Versus ordinata Ovviamente È un pezzo di mattina Senza La scuola E Siamo così Nella vita reale Magari a volte Non facciamo quelle cose Ma ne facciamo altre Ma a volte Comunque facciamo queste cose Che vi abbiamo mostrato Nel video Quindi se questo video vi è piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdere Nessun video E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao